Strepitoso ragazzi, ho dometizzato la stufa pellet. Alexa, accendi pellet. Ed ecco che è partita. Seguitemi per vedere il procedimento. Ciao ragazzi, benvenuti sul canale dell'architetto. Ricordate di mettere un bel mi piace ed iscrivervi al canale. Vi siete mai chiesti se si può dometizzare una stufa pellet in modo da comandarla da remoto? Certo che sì, grazie al contatto pulito dello Scelli1. State con me fino alla fine del video e vi farò vedere come creare una scena per far partire la stufa e come configurare lo Scelli.1. In più faremo una scena dove il contatto pulito dello Scelli viene attivato dal termostro dello Scelli.HT. Seguitemi ragazzi. Iniziamo togliendo il carter alla stufa. Adesso andremo a togliere questa apparatia qua in modo da poter accedere alla centralina. Voi vedete un attimino dove avete la centralina, di solito è dietro al comparto comandi della stufa. Praticamente cosa andremo a fare? Ecco, questo qua è il quadro della centralina della stufa. Dovremmo andare a intercettare il pulsante che dà il comando di accensione e che varie le diverse velocità dei ventilatori. Nel caso della stufa termorossi, che è comandata da telecomando, non vi è un pulsante vero e proprio nel quadro di comando, ma troviamo un pulsantino di sicurezza che è posto qua nel retro. Ed è esattamente questo pulsantino rosso qua. Questo qua quando viene premuto avvia praticamente la stufa e poi premendolo successivamente va a cambiare la marcia della velocità, cioè l'intensità della fiamma. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questo pulsante praticamente va a chiudere un contatto. Quando il contatto chiude, dà l'input al motore della stufa e ai ventilatori di aumentare di una velocità e poi di accendersi e di spegnersi. Nel mio caso è una cosa ciclica, cioè il primo contatto accende la stufa, il secondo contatto aumenta di uno stadio, il secondo, terzo, quarto e quinto aumenta di vari stadio fino ad arrivare alla potenza massima e l'ultimo stadio ovviamente spegne la stufa. Perciò capite che collega praticamente un contatto pulito tramite lo shelly a questo pulsante, io ho il pieno comando della stufa, poi anche da remoto, perché una volta che lo shelly è configurato potrò accedere tranquillamente da remoto. Ora vediamo come fare. Qua abbiamo il nostro shelly 1. Prima di tutto ho alimentato lo shelly con la fase e il neutro. Dopodiché andrò a collegare due cavetti in parallelo sul pulsantino di comando della stufa e andrò a inserirli in 0 e 1. A questo punto, una volta alimentato lo shelly, questo verrà configurato con la procedura che trovate tranquillamente in rete e dopodiché dovremo andare a configurare le varie impostazioni, perché non possiamo lasciare sempre acceso, anche perché questo qua è un pulsantino on-off. Di conseguenza dovremo andare a dare un'alimentazione che dura un input e vi farò vedere nella procedura, sull'app cloud shelly, come fare. Ecco, vedete, praticamente questo è il retro del pulsante. Lui ha questi due connettori che escono, al quale io sono andato a saldare con lo stagno, ma potete anche farlo se non avete saldato la stagno, potete anche solo far fare contatto questi due fili ai due connettori, legandoli insieme. L'importante è che fate attenzione che non tocchino uno con l'altro. E poi questi due fili li ho portati allo shelly, praticamente allo 0 e all'1. Ecco, qua non si vede molto bene, però a lato vi faccio vedere uno schema di come è strutturato il pulsante. Ed ecco qua il nostro schema del collegamento. Avremo il nostro shelly, neutro e fase collegate alla corrente elettrica, contatto pulito 0 e 1 che vanno a finire dentro la stufa dove c'è il bottone di accensione. Nel mio caso è un pulsante che viene premuto per un secondo e lui chiude il contatto e fa avviare e dà l'input alla scheda elettronica della stufa. Mi raccomando, prima di fare qualsiasi modifica, provate con un tester il funzionamento corretto della vostra stufa, specialmente del pulsante, perché si potrebbe andare a creare delle sovratensioni oppure mandare in contocircuito la stessa scheda. Torniamo a noi, praticamente il nostro pulsante esce con questi due pin. Io cosa ho fatto? sono andato a saldare i due cavetti che vanno allo 0 e all'1 e poi premendo dall'app l'interruttore lui va a chiudersi e a spegnersi entro un secondo. Chiudendo questo contatto parte la stufa. Non ho configurato il tutto, potrete poi far funzionare la stufa con Alexa, da Google Home oppure da Home Assistant. Vedete, adesso io praticamente ho preso questi due fili che poi bastano due fili finissimi perché non è che devono portare dalla corrente, è proprio solo a chiudere il contatto. Questi due fili li ho fatti uscire e vado a collegarli allo Shelly. Ecco, eccoci qua con il nostro Shelly. Andremo a commutare i due fili che arrivano dalla stufa al contatto 0 e al contatto 1. Spegliamo i due fili. li attorcigliamo un po' più corti. Dopodiché andiamo a prendere il nostro Shelly andiamo a inserirgli uno andiamo ancora svitiamo le vittine e inseriamo i due pin il primo mi raccomando queste procedure qua fatele sempre con la corrente staccata per essere tranquilli Allora, ricapitoliamo il cavetto che arriva dalla stufa lo collettiamo a 0 e 1 poi nella fase nel neutro alimentiamo lo Shelly e se vu rimane libero ed eccoci qua avviamo l'applicazione dello Shelly nel mio caso è già installato andiamo nel soggiorno andate dove avete configurato voi lo Shelly Attenzione se la configurazione dello Shelly non è data buon fine guardate il mio video trucchi e istruzioni per il reset dello Shelly e velocemente riuscirete a configurarlo io l'ho chiamato pellet vedete che c'è vicino la stufa pellet come andare a configurare questo contatto? allora si entra nell'impostazione e si va a dare in autospegnimento visto che noi dobbiamo solo dare un input cioè chiudere il contatto chiudere il contatto e aprirlo un valore che possa essere compatibile alla nostra stufa io ho dovuto fare un po' di prove perché subito ho messo mezzo secondo però teneva troppo poco chiuso il contatto e di conseguenza la stufa non partiva anche perché quando vado a toccare il tasto fisicamente se non lo tengo premuto almeno un secondo lei non va a cambiare di stato allora cosa ho messo? si va a cliccare qua dentro si mette un secondo si dà salva altra cosa importante è configurare lo scegli come interruttore perciò fate attenzione andrete in applicazione setting load type socket poi sempre in applicazione setting e poi in impostazioni modalità predefinita lo impostiamo su spento in modo che se manca la luce e ritorna la luce non ci fa spartire la stufa come tipo di pulsante mettiamo interruttore a levetta e poi le altre impostazioni rimangono tali eccoci qua adesso vediamo come impostare le scene si possono fare due tipi di scene o svariate adesso ve ne farò vedere due tipi di scene legate alla domatizzazione di questa storia andiamo in soggiorno dove ho messo nella camera dove abbiamo installato dove abbiamo incorporato lo scegli scene aggiungi scene gli diamo un nome allora la prima che faremo andremo a fare una scena dove diciamo di accendere la stufa tutte le mattine alle 7 del mattino diamo il nome alla scena accensione stufa andiamo a individuare la stanza dove diciamo che è il soggiorno una foto qualsiasi andiamo avanti e aggiungiamo allora si parte da questa situazione qua condizioni basate condizioni attivazione giornaliera poi qua potreste dargli anche l'attivazione una volta se volete farla solo accendere una volta quando vorrete voi in base alla data o quant'altro noi facciamo quella giornaliera così possiamo impostarla per tutta la settimana allora mettiamo a caso che vogliamo farla partire da lunedì al venerdì sabato e domenica lo scludiamo perché vogliamo farla partire a un'ora diversa allora andremo a fare due scene una per i feriali e una per i festivi per i feriali facciamo in questo modo qua andiamo a individuare l'ora abbiamo detto alle 7 del mattino imposta inserisci adesso gli diamo esegui andiamo a individuare il nostro pellet cambio di stato accendi il relay ritardo di esecuzione lasciamo invariato diamo inserisci salva scena se vado a vedere nelle mie scene vabbè qua ne avrò anche altre accensione stufa e abbiamo la scena dove noi potremmo poi anche andare a disattivarla o attivarla bene ora partiamo con la seconda scena andiamo sempre qua nella nostra camera soggiorno scene aggiungiamo la scena questo praticamente vogliamo fare una scena dove dove il termostato HT della Shelly va a comandare l'accensione della stufa cosa facciamo allora andiamo a impostare che ha una determinata temperatura del termostato questo dia l'input allo Shelly di attivarsi e accendere la stufa mettiamo allora accensione tramite HT poi individiamo di nuovo la stanza soggiorno la nostra fotografia vabbè per semplificare per differenziare utilizziamo questa foto qua allora andiamo a scrivere la nostra scena allora quando andiamo a individuare dove c'è il termostato dell'HT dello Shelly questo qua quando la temperatura è minore di 19 gradi poi potete anche individuare potete anche andare a mettere delle opzioni per l'umidità ma non è il caso ogni volta oppure una volta però noi impostiamolo ogni volta così tutte le volte che scenderà di sotto si accenderà la stufa inseriamo esegui l'azione anche qua andiamo di nuovo in soggiorno pellet cambia di stato accendi il relè ricordiamoci sempre che l'accensione del relè viene effettuata ma in automatico lui si spegne dopo un secondo grazie alla configurazione che abbiamo fatto in precedenza salva scena e siamo pronti per partire quando questa temperatura qua praticamente scenderà sotto i 19 gradi in automatico vedremo accendersi e spegnersi l'icona del pellet ragazzi ci siamo adesso siamo pronti per testare il nostro collegamento con la stufa pellet vedrete al momento in cui vado a dare l'input allo shelly di chiudere il contatto sentirete la musichetta della mia stufa che parte cosa facciamo andiamo allora nella nostra nostro soggiorno andiamo a individuare stufa pellet e adesso state a sentire io schiaccio avete sentito la stufa è partita se io schiaccio nuovamente lei darà un secondo input cioè gli dice passiamo al secondo step di riscaldamento Alexa accendi pellet ok ed ecco che è partita se è la prima volta che passate di qua ricordatevi di iscrivervi al canale e di andare a cruzare nella playlist della domotica ci sono tante cose interessanti per voi inoltre iscrivendoli al canale non vi perderete i prossimi video importanti novità sulla gestione delle scene degli scelli il reset e tutto quanto concerne la domotizzazione della casa